C'è tanta ricerca anche qui, quindi anche tecnologie avanzate, il risoli ha un po' il fiore all'occhiello per certe terapie. E la cosa che fa piacere è che il paziente ha piacere di venire a Rizzoli, perché è un nome mondiale, non credo di esagerare, però penso che sia in America, dove sono andata anch'io, sanno cos'è il Rizzoli. A parte questa sua location che è veramente molto bella, ma anche come centro di riferimento per tante patologie. Grazie a tutti.